Ma che c'hai? Guarda che tacco! Mi piace puntare l'uomo. Farò di tutto per vincere. Un calcio bailado come in Brasile. L'antica tattica del pianto paga sempre. Ci siamo... Oh tira! Ho tirato! Come sono forte! E' un calcio. Ma era 3 contro 1 o 2 contro 2? A me m'hai messo in tribuna. Mi influenzi la pancola in maniera negativa. Ma non ci credo! Non ci credo! Che avevo combinato! Sì, vola! Guarda che calcio cintillante! E' un calcio! E' un calcio! No, il gol focacina non lo meritavo. E' un calcio! Cosa si comincia? no ga non ti sto vedendo benissimo questo avvio di gara eh. Per amorti! Come è stato? Ragazzi, per me si può fare un 5-4-1 da te fino alla fine. Ma che c'avete? Ah, sono ritratto dall'importunio! Guarda che miracolo che ha fatto quello! Tagliala! Come pira? Come? Ma io penso veloce! Tagliala! E' sparacchia, vai! Specialità della casa! Paralunga! Finita! Grazie! No, però ti voglio con me! Ti voglio con me!